Addio all'ultimo maestro del cinema italiano. A 77 anni a Roma questa mattina ci ha lasciato Bernardo Bertolucci, poeta, documentarista, regista, produttore, polemista ma soprattutto autore per eccellenza del cinema italiano, anzi mondiale, ha modellato alcune delle pellicole che restano iniziare. Sono insormontabili, logico io lotto fuori in popoli perché vivo fuori in popoli e provincia. A Roma città eterna, barriere eterne sarebbe sicuramente peggio. Tu lo sai che c'è una denuncia fatta da Bernardo Bertolucci che vive purtroppo per un problema alla schiena, anche lui su una carrozzella e lui proprio ha fatto una denuncia pubblica, il fatto che noi non ci rendiamo conto quando parcheggiamo la macchina e loro magari davvero hanno i problemi. Lui sa come fa lui, gli lascia i bigliettini? A quelli che mettono l'automobile sui posti dove... Ciao a tutti, ciao a tutti.